Fra i settori più sofferenti a causa della pandemia Covid vi è anche quello del trasporto pubblico chiamato a fare i conti fra i differenti aspetti con le misure finalizzate al contrasto della diffusione dei contagi che evolvono in modo repentino provocando talvolta non poche difficoltà agli utenti ma anche agli stessi addetti ai lavori come ribadito da Dolomiti Bus. Un nuovo banco di prova all'orizzonte è quello dell'estensione dal 10 gennaio del Green Pass rafforzato per chi ha più di 12 anni anche per salire sui bus. Ma a preoccupare maggiormente l'azienda bellunese del trasporto pubblico locale è il tema del futuro obbligo vaccinale per gli over 50 che inevitabilmente potrà aggravare la già pesante situazione relativa alle carenze d'organico in linea con il trend nazionale denunciata in più occasioni dalla stessa azienda. Il personale viaggiante si attesta all'incirca sulle 150 unità attuali ma è il timore che fa sapere Dolomiti Bus con le nuove restrizioni la situazione possa farsi ulteriormente seria. Noi abbiamo fatto fronte a questo problema del covid in questi due anni riorganizzando completamente più volte tutta l'azienda e il servizio erogato. Adesso stiamo veramente cercando di raschiare il barile per non dare disservizio ai nostri clienti. Con non poche difficoltà l'azienda ha fatto sapere di aver ripreso anche alcune corse a vocazione turistica verso le principali stazioni sciistiche come Falcade, Alleghe, La Valboite e Cortina. Un'attenzione speciale poi dedicata al mondo della scuola con il trasporto scolastico pronto a riprendere a pieno nel rispetto delle nuove misure di sicurezza dopo il rallentamento dettato dalle recenti vacanze scolastiche. Noi faremo di tutto come abbiamo sempre fatto finora per garantire il servizio agli studenti e anche ai lavoratori. Certo è che i problemi sono tanti ed è veramente difficile risolverli e ci siamo riusciti finora grazie soprattutto alla buona volontà e all'impegno di tutti quanti i dipendenti.